Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E l'ho fatto, sono stato diverse volte in alcune scuole, tra l'altro lo farò anche venerdì nonostante le scuole siano chiuse e lo farò perché mi hanno evidenziato alcune criticità di alcuni istituti di proprietà del comune. Quindi fuori dall'anno scolastico andrò a rendermi conto di queste cose e poi chiaramente quando riprenderò l'anno scolastico continuerò ad essere presente nelle scuole. Le altre cose chiaramente le dovremo affrontare. Io immagino, non so se riesco a fare tutti e 14 punti, però buona parte penso che si possano fare.